Musica Benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale La politica con le novità che arrivano dai movimenti e da rifondazione Oggi gli esponenti di Alba hanno annunciato la candidatura di un proprio esponente alla presidenza della regione Diventano in questo modo sei gli aspiranti alla guida del governo del Molise Giovanni Minicozzi Nei prossimi giorni verranno definiti i criteri per la scelta del candidato presidente alla regione Ma una cosa è certa, nella competizione elettorale ci sarà la lista rivoluzione civile E un aspirante presidente che rappresenterà gli arancioni di Antonino Ingroia anche nel Molise E potrebbe essere il sesto candidato insieme a Michele Iorio, Paolo Frattura, Massimo Romano, Antonio Federico E il candidato dei centristi L'alleanza della sinistra alternativa distinta e distante dal centro-destra, dal centro-sinistra, dal centro e dai grillini E' nata dall'intesa sottoscritta a Roma tra Italia dei Valori, comunisti italiani, Verdi, Arancioni, Alba Alleanza per i beni comuni, lavoro e ambiente, rifondazione comunista e il movimento civico Cambiare si può L'obiettivo è di ricostruire una speranza Una speranza che in questo paese è stata distrutta da vent'anni di neoliberismo Da vent'anni di belluscolismo, da vent'anni di subalternità di una sinistra Verso semplicemente l'idea del governo per il governo E che di fatto poi vediamo che i diritti dei lavoratori, il welfare Sono stati totalmente calpestati da queste politiche E che ormai è stata distrutta anche la speranza di un'Italia migliore E di un cambiamento politico e sociale in questo paese E' un progetto ambizioso, sapendo delle difficoltà che abbiamo davanti Sappiamo che la strada è ilta di ostacoli Ma credo che sia necessario e non più rinviabile Dunque nessuna alleanza col PD, né col centro-sinistra in Italia e nel Molise Non ci sarà nessun tipo di raccordo col Partito Democratico Noi abbiamo presentato anche dei punti di programma per le elezioni regionali Dal Partito Democratico non abbiamo avuto nessuna risposta D'altronde non poteva che essere così Perché le nostre politiche sono completamente diverse La nostra politica antiliberista E soprattutto contro tutto quello che ha fatto il governo Monti negli ultimi anni Ma nel Molise chi saranno i vostri alleati? E chi sarà il candidato presidente? Ma per il momento per noi è ancora prematuro dirlo Chi sarà il candidato presidente? Senza dubbio sarà un candidato presidente della sinistra Nell'ambito della sinistra E come Alba noi ci stiamo muovendo per creare una lista di sinistra Una lista che raccoglie le migliori espressioni della società civile Dei movimenti, dell'associazionismo Collegata logicamente alla lista nazionale Cioè alla lista in chiaroia All'iniziativa pubblica si è fatto vedere anche per Paolo Nagni Ma la posizione dell'Italia dei Valori chiara a livello nazionale È ancora da definire in ambito regionale Poiché siede al tavolo del centro-sinistra E sponsorizza Paolo Frattura al vertice della regione Una politica del doppio binario Che si possa essere opposizione al PD A Monti, alle destre, a livello nazionale Poi casomai fare un accordo col centro-sinistra a livello locale Credo che sia una idea sbagliata e nefasta Costruire democrazia ha annunciato ufficialmente La candidatura di Massimo Romano alla presidenza della giunta regionale Prosegue senza sosta anche il lavoro di costruzione della coalizione Hanno spiegato dal movimento politico Che ha comunicato anche la candidatura alla proporzionale Dell'avvocato penalista di Campobasso Giovanni Di Lembo Una lista per le elezioni politiche a sostegno di Berlusconi Con dentro tutti i governatori di centro-destra del Mezzogiorno Tra i possibili candidati anche Michele Iorio Su questa idea di Berlusconi Enzo Di Gaetano Ha sentito il parere del governatore del Molise Sentiamo l'intervista Presidente Iorio, notizia delle ultime ore Berlusconi vuole tutti i governatori del centro-sud a fianco a lui Vuol fare una lega del sud Progetto sud per fare da contrappeso a Maroni E tentare di conquistare il Senato Mi sembra un obiettivo positivo Quello di rafforzare la presenza del centro-destra nel sud È un'operazione condivisibile Quando ne parlerò con Berlusconi Vedremo anche quali sono le condizioni nel Molise Ma poi come fa? Lei è candidato al Senato E candidato alla presidenza della Giunta? Berlusconi si riferisce all'impegno dei governatori Dal punto di vista politico Non necessariamente come candidati Quindi si tratta di vedere quale sarà l'obiettivo E come si collegherà con lo stesso PDL Per il Molise invece Iorio Passo indietro, passo avanti Che sta succedendo? Cosa aspetta Iorio? L'ho detto Aspetto che i centristi cosiddetti Definiscano la loro posizione in maniera definitiva Se vogliono naturalmente non dividere il centro-destra Facciano delle indicazioni precise Altrimenti si tratterà di valutare la loro posizione autonoma Rispetto al centro-destra E questo sarebbe, credo, un grosso problema Per lo schieramento nel quale abbiamo sempre creduto Io mi auguro che fino all'ultimo momento Ci sia la possibilità di recuperare il consenso di tutti Ma finora nomi alternativi ne sono venuti fuori Alternativi a Iorio Lei disse se escono fuori altri nomi Faccio anche un passi dietro È venuto fuori qualche nome? Ma no, assolutamente no Si tratta di trovare un'indicazione unificante Io ho dato la mia disponibilità Finora non mi sembra che emerga niente di condiviso Siamo alla vigilia delle elezioni Bisogna decidere subito Aspetterò un paio di giorni e poi vado avanti Il segretario nazionale del nuovo partito Denominato Intesa Popolare Giampiero Catone E il responsabile regionale Emilio Orlando hanno presentato alla stampa il movimento politico di ispirazione centrista che è nato dalla scissione della nuova democrazia cristiana per le autonomie Il nuovo soggetto si propone di partecipare alle prossime elezioni politiche alle regionali con liste autonome che cercano l'intesa con altre aggregazioni di centro Vogliamo dare voce ai cittadini e recuperare la distanza della politica dalla gente Con azioni concrete che mirano al sostegno dei più deboli e al rilancio dell'occupazione ha dichiarato Giampiero Catone La politica non c'è più Ha invece sottolineato Emilio Orlando E la mancata riforma della legge elettorale contribuisce ad allontanare la gente dalle istituzioni Per l'economia i dati registrati nel 2012 non confortano Calo soprattutto nel settore auto con le immatricolazioni scese a livello di quelle del 1979 Sentiamo Giovanni Di Tota La crisi economica ma anche il caro carburanti, il caro assicurazioni e l'overdose di imposte hanno dato il colpo di grazia al mercato dell'auto in Italia che con il 2012 chiude un anno nero durante il quale le nuove immatricolazioni sono sprofondate a poco più di un milione e 400 mila Nel mese di dicembre le nuove auto, circa 86 mila hanno registrato un arretramento del 22,51% rispetto allo stesso periodo del 2011 Il calo è stato del 19,87% su base annua ad un livello che ci riporta 33 anni fa quando nel 1979 gli italiani acquistarono poco meno di un milione e 400 mila vetture Negativo anche il bilancio delle vendite dell'usato in calo nel 2012 del 9,75% con 4.125.000 trasferimenti di proprietà In questo drammatico scenario che secondo Federauto nel 2013 peggiorerà ancora con volumi vicino a quota 1.330.000 le vendite di Fiat Group hanno ceduto nel 2012 il 19,4% attestandosi a 414.929 auto e a dicembre il 20,2% Ma il gruppo torinese sottolinea che comunque ha fatto meglio del mercato mentre la quota dell'ingotto è addirittura cresciuta di 0,2 punti percentuali nell'intero 2012 Dati in leggera controtendenza che comunque anche nello stabilimento di Termoli alle prese con continui periodi di cassa integrazione non inducono all'ottimismo Migliaia di posti di lavoro restano a rischio anche per il prossimo anno mentre da più parti si invoca ormai con urgenza un piano d'azione per la salvaguardia e il rilancio dell'industria automobilistica italiana Sono partite in commissione regionale le audizioni per il bilancio 2013 i consiglieri a lavoro per far arrivare il documento in aula già la prossima settimana Sentiamo ancora Giovanni Minicozzi I rappresentanti dei diversi enti sub-regionali e del partenariato economico e sociale sono stati ascoltati in mattinata dalla prima commissione di Palazzo Moffa presieduta da Vincenzo Niro sulla proposta di bilancio preventivo e sulla finanziaria per l'anno in corso già approvati dall'Aggiunta regionale Dopo la relazione dell'assessore Gianfranco Vittagnano si sono susseguiti i vari interventi che hanno chiesto di emendare il testo originale poiché, hanno detto, i tagli ipotizzati non consentono la normale gestione delle attività Proposte alternative sono arrivate anche dalla minoranza È un giudizio negativo perché si tratta di un bilancio pre-elettorale Noi proponiamo alcune azioni e misure concrete nell'interesse della comunità molisana primo, riduzione dei costi della politica per finanziare il reddito di cittadinanza per tutti quei lavoratori e lavoratrici che hanno perso il lavoro e sono fuori dagli ammortizzatori sociali secondo, un taglio drastico alle spese di funzionamento degli organi e degli enti per destinarli alla riduzione del carico fiscale per imprese e cittadini e per maggiori servizi appunto ai cittadini terza questione, sbloccare immediatamente la spesa dei fondi strutturali per restituire ossigeno al tessuto economico che è davvero paralizzato Di tutto questo non c'è traccia nel bilancio presentato dalla Giunta, lo proporremo in sede di Commissione e poi di Consiglio regionale Ma in effetti la coperta è corta e appare difficile trovare le risorse necessarie per soddisfare tutte le richieste È facile parlare quando non si hanno le redini del governo e la responsabilità Questo è un bilancio responsabile, un bilancio di rigore che viene in un momento di contesto terribile che conosciamo tutti e mentre sta producendo i suoi effetti nefasti una politica del governo che è mirata solo al taglio dei trasferimenti che ormai incidono sulle prestazioni dei servizi Noi fino a quando abbiamo potuto abbiamo fatto il nostro dovere lo abbiamo fatto a cominciare dai costi della politica che sono stati ridotti profondamente in questa regione per ben tre volte e sono stati ridotti anche i costi relativi alle strutture burocratiche quindi i costi di funzionamento Ormai non abbiamo più niente da raschiare sul fondo del barile e ogni taglio, e ne abbiamo subito idee enormi in questi anni incide sulla prestazione dei servizi Io ho invitato tutti stamattina a non fare sindacato delle proprie stanze ma ad essere i sindacalisti del Molise nel suo complesso Ma l'opposizione raccoglie la sfida? Se questo è il bilancio che resta non solo voteremo contro ma continueremo a denunciare un bilancio paralizzato che non parla a nessuno se non alla preservazione di qualche poltrona e di qualche amico della casta La bozza del nuovo piano sanitario redatta dal commissario ad acta Filippo Basso non garantisce i livelli essenziali di assistenza e per questo deve essere bocciata lo chiede alla conferenza permanente per la programmazione sociosanitaria il consigliere regionale del PD Michele Petraroia aggiungendo che il documento tra l'altro svuota la medicina territoriale pubblica smantella la rete ospedaliera pubblica non armonizza il sistema e chi ne esce rafforzata è solo la sanità privata l'elemento che desta maggiori preoccupazioni continua Petraroia e l'assenza di schede finanziarie esplicative sui costi attuali del sistema e su quelli a regime della sanità regionale al termine del triennio così come poi conclude non ci sono dati epidemiologici su cui fondare l'offerta sanitaria con l'approntamento del piano quale risposta al fabbisogno sanitario regionale parliamo adesso di scuola perché anche nel 2013 restano diverse questioni da affrontare ce ne parla Giuseppe Lanese si profila un anno impegnativo per la scuola molisana alle prese con risorse sempre più esigue con le avvertenze dei precari con le cosiddette classi pollaio nei centri maggiori e le aule sempre più vuote nei piccoli comuni sullo sfondo il piano di dimensionamento che dovrebbe riorganizzare la rete degli istituti sul territorio ma che resta anche quest'anno in una fase di limbo a causa di nuove elezioni regionali la CGL punta i piedi prima del rientro in classe dopo le festività natalizie per discutere dell'avvertenza a scuola il sindacato ha organizzato domani alle 10.30 una conferenza stampa nella sede di Via Mosca Campobasso per affrontare anche la questione degli scatti d'anzianità agli insegnanti e dei contributi sospesi del dopo terremoto sul piatto inoltre le iniziative che la stessa CGL del Molise ha intenzione di avviare per contrastare quelle che definisce le politiche di impoverimento dei settori della conoscenza il sindacato contesta a livello nazionale l'attribuzione di 223 milioni di euro alle scuole private e il taglio di 300 milioni alle università una scelta che continua a penalizzare la scuola pubblica afferma la CGL è una stangata per gli Atenei è attesa nei prossimi giorni la decisione del Tribunale della Libertà di Campobasso sulle richieste di arresti negati dal GIP ai due principali indagati sul presunto giro di tangenti al comune di Pizzone per il procuratore capo di Sernia Paolo Albano l'ex sindaco Michele Cozzone e Giovanni Farrocco il titolare dell'impresa che ha eseguito gli appalti finiti sotto la lente della Guardia di Finanza potrebbero inquinare le prove e influenzare i testi inoltre il procuratore ha parlato di attualità del reato ipotizzato poiché uno degli appalti è ancora in essere gli avvocati della difesa Marco Franco, Ennio Mazzocco e Giuseppe Stellato hanno presentato tre memorie e centinaia di pagine di documenti per dimostrare l'insussistenza delle accuse non c'è stata alcuna corruzione ha detto l'avvocato Franco i rapporti tra i due indagati riguardano solo la passione per il calcio totalmente slegati dai lavori assegnati dall'ente il collegio presieduto dal giudice Giampiero Scarlato si è riservato alla decisione il gruppo di costruire democrazia al comune di Campobasso ha illustrato le proposte di programma da presentare in aula su diversi temi tra cui entrate fiscali urbanistica e politiche sociali sentiamo siamo delusi dall'attività di questa amministrazione da oggi si cambia marcia saremo ancora più duri abbiamo diverse proposte da sottoporre in settori nei quali abbiamo riscontrato carenze notevoli lo dicono i consiglieri comunali di costruire democrazia a Campobasso è inesistente la tassa sui sottoservizi che porterebbe alle casse del comune fino a 400 mila euro a fronte di un aumento del limo e di altre imposte che penalizzano invece solo i cittadini ha spiegato Durante bisognerebbe aggiunto accedere al fondo di coesione per ottenere soldi dall'Europa per le zone urbane per agevolare le giovani imprese si possono ottenere 2 milioni di euro Teresa Cuomo si è soffermata sui servizi sociali alla persona borse lavoro che sono state il cui bando è stato erogato ma non con dei fonti necessari sufficienti per cui abbiamo chiesto abbiamo fatto una proposta di ricoperare delle somme che sono pari a 7.300 euro da rinvestire in questo settore proposta che però è caduta nel nulla perché l'abbiamo presentata nei tempi utili cioè entro il 31 dicembre scorso ma purtroppo non sono stati incammerati quindi sono stati persi e sono stati persi appunto in un settore così delicato come quello del recupero di soggetti svantaggiati come i tossicodipendenti la richiesta della Cuomo anche di investire in servizi come menze scolastiche e asili nido Michele Coralbo ha evidenziato la necessità di interventi nel settore urbanistico con tre proposte la prima con una rivisitazione del piano industriale di quello delle zone agricole la seconda per modificare le norme tecniche di attuazione per spalmare le somme per la ricostruzione delle scuole sicure nei loro siti di origine La terza iniziativa che credo sia quella più importante è quella di mettere a sistema con tutta la macchina amministrativa comunale il SIT cioè ovvero il sistema informativo territoriale in modo tale da recuperare le somme che purtroppo vengono evase e da garantire un'equità nei vagamenti e soprattutto per garantire maggiori entrate alle casse comunali che poi possono essere trasformate in maggiori servizi per i cittadini Affollatissima a Venafro la Chiesa del Cristo in cui si sono svolti i funerali di Vincenzo Gargano 65 anni stroncato dalla SLA la sclerosi laterale amiotrofica semplici cittadini e autorità hanno voluto testimoniare il loro affetto ai familiari di Vincenzo e di Palmina Giannini la madre coraggio d'anni impegnata nella lotta alle malattie rare solo qualche settimana fa nonostante le condizioni di salute del marito sempre più gravi aveva organizzato una manifestazione in favore di Teleton la vicenda umana del marito e le battaglie di Palmina Giannini tese anche a denunciare l'insensibilità delle istituzioni verso le persone colpite dalla malattia genetica e spesso hanno conquistato la ribalta nazionale nei mesi scorsi la presidente del comitato Balestrazzi aveva iniziato lo sciopero della fame per protesta contro i tagli dei fondi destinati ai malati di SLA da parte del governo alle famiglie Gargano e Giannini anche il cordoglio di Telemolise andiamo avanti con il telegiornale Lavoro e Salute questi i maggiori desideri dei termolesi per il 2013 dopo un 2012 molto duro e che in alcuni casi ha spento le speranze in un futuro migliore sentiamo Manuela Iori è stato un 2012 da dimenticare i termolesi lo sanno ma anche se in alcuni casi si sono perse le speranze per un futuro migliore c'è chi non si perde d'animo e crede nella risalita lavoro e salute in cima alla lista dei desideri un augurio per il 2013 un augurio a chi? a tutti i lavoratori più lavoro ci vuole certo tanta pace e serenità per tutti un augurio un po' di serenità salute e il lavoro soprattutto spero che non succeda di peggio di chi c'è stato finora non è che si spera sempre perché ho visto le cose come stanno andando speriamo che cambi qualcosa se no andiamo a rotoli tutti quanti io mi auguro tutto il bene di questo mondo almeno per me stesso poi per gli altri se stanno bene se no basta che sto bene io cosa si augura per il 2013? niente felicità tanti soldi la salute quella cosa più importante auguro a tutti tanta salute prima di tutto perché se non c'è quella non c'è nulla poi visto che c'è questa crisi parliamo sempre delle stesse cose che questo governo sia più più clemente cioè che ci faccia spendere di più e guadagnare di più tanta fortuna visto che l'anno scorso ce n'è stata poca che tutti riescono ad avere un lavoro la salute un buon meno di cassa integrazione più lavoro dunque la Fiat comunque il 2012 è stato un po' triste è da augurarsi immagino una maggiore senerità una prospettiva migliore per i nostri figli perché i tempi sono veramente brutti insomma quindi questo è l'augurio più grande e salute che non guasta sicuramente che riparta il mercato del lavoro e quindi consenta un po' più di stabilità a tutti che la gente lavora che la gente sta bene e allo stesso tempo dobbiamo cercare di valutare bene le situazioni è tempo di votazioni valutiamo bene questa cosa la guardia costiera direzione marittima di Pescara ha effettuato sequestri di pesce tra Abruzzo e Molise vediamo i numeri dell'operazione tre tonnellate di pesce sequestrate quasi 500 controlli effettuati 75 verbali sono i numeri dell'operazione Mekong eseguita durante l'intero mese di dicembre dagli uomini della guardia costiera direzione marittima Abruzzo e Molise di Pescara hanno effettuato controlli a tappeto lungo le coste delle due regioni controlli per garantire il rispetto delle norme su scambi commerciali di pesce e misure tecniche per la tutela della specie dei consumatori impiegati in tutto 150 uomini e 15 navi a termoli 164 sono stati controlli il numero più alto con 12 infrazioni riscontrate il numero è superiore solo a quello di vasto ma inferiore alle altre cittadriatiche interessate sono stati trovati prodotti scaduti ma tra i reati riscontrativi anche la frode in commercio per specie di poco valore spacciate invece come rinomate sequestrate vongole lupino tonno rosso di cui è vietata la commercializzazione merluzzo e pesce spada sfrattato perché non può pagare più l'affitto un disoccupato di Pozzilli oggi si è incatenato nell'aula consigliare del comune per ottenere una casa popolare del suo caso ne avevamo già parlato un paio di mesi fa ma ora la situazione si è aggravata la settimana prossima infatti lo sfratto diventerà esecutivo sulla vicenda intanto interviene anche il sindaco sentiamo Sergio Di Vincenzo il mese scorso ha ottenuto una proroga dall'ufficiale giudiziario ma l'8 gennaio lo sfratto diventerà esecutivo e stavolta senza preavviso Angelo Di Stazio rimasto senza lavoro dovrà lasciare la sua casa perché non riesce più a pagare l'affitto ma non si rassegna l'idea di far dormire la moglie malata in macchina per richiamare l'attenzione sul suo problema per ottenere un alloggio popolare ha deciso di incatenarsi nell'aula consigliare del comune di Pozzilli il sindaco mi aveva promesso le case popolari in alloggio diciamo anche provvisorialmente però sono tre mesi che mi porta in giro e fino ad oggi niente da fare ha detto stiamo provvedendo stiamo provvedendo stiamo provvedendo però l'otto di questo mese vengono i carabinieri l'ufficiale giudiziario dei carabinieri e mi buttano fuori devo dormire mezza una strada io e mia moglie nessuno lo mette in dubbio che ci sono altri casi difficili però ancora hanno la casa che sono stata dentro io sto mezza una strada e come devo fare mi devo sparare mi devo ammazzare che devo fare di case non ce ne sono la replica del sindaco Nicandro Tasso ma l'impegno dell'amministrazione comunale per risolvere questo e altri casi simili è assicurato ho già inoltrato le case popolari lo sgombero di 3-4 la richiesta di sgombero di 3-4 edifici di 3-4 alloggi perché secondo i nostri accertamenti non ci hanno le persone che erano assegnate non ci hanno più requisiti perché non ci abitano dentro al momento attuale ho fatto questa procedura però ancora non ci sono comunque voglio dire queste persone sono ingatenate purtroppo il problema c'è ma sta anche un fatto che ci sono delle graduatorie ci sono persone come loro purtroppo come loro che hanno grossi problemi e non ho promesso niente a nessuno io non ho promesso niente a nessuno perché mi è stato detto che queste persone questi signori di Stasio hanno detto che io gli ho promesso le case popolari io non prometto le cose che non si possono dare io ho detto che se era possibile fare qualche cosa se la si faceva ma nel momento in cui si sta la disponibilità delle case ci sono altre persone come loro purtroppo dico sempre purtroppo che già hanno questi problemi certe volte anche più gravi perché ci sono i bambini in mezzo e nel primo pomeriggio il sindaco Tasso di Intesa con i Carabinieri ha convinto il signor di Stasio a tornare a casa all'uomo è stato assicurato che nell'immediato sarà trovata una soluzione provvisoria in attesa che si liberi un alloggio popolare festa del Molise l'orchestra stabile della nostra regione per celebrare i festeggiamenti in programma si è esibita anche all'auditorium di Isernia con un nutrito programma dei Valzer di Strauss sentiamo Enzo Di Gaetano il Macbeth di Verdi Johan Strauss i suoi memorabili Valzer e la marcia di Radeschi l'hanno fatta da padrone nel concerto di Capodanno all'auditorium di Isernia l'esibizione organizzata dalla presidenza della regione nell'ambito delle manifestazioni in cartellone per la festa del Molise è stata particolarmente apprezzata dal pubblico Isernino che ha riempito la platea dell'auditorium in tutto l'ordine dei posti presente anche il neo direttore artistico dell'orchestra stabile del Molise l'Isernino Fernando Raucci già direttore dell'orchestra stabile di Princeton negli Stati Uniti un molisano che si è fatto onore all'estero e che ora punta sulla valorizzazione e sulle enormi potenzialità dell'orchestra stabile molisana questa orchestra ha grosse potenzialità e il mio traguardo è di farla diventare una delle miglior orchestre di tutta Italia però sono d'accordo ha grosse potenzialità poi sono rimasto contentissimo perché il concerto del 2 di adesso l'auditorium è gremito e il concerto del primo del Teatro Savoio era completamente tutto esaurito per cui questo mi soddisfa moltissimo da ieri è stata pubblicata su internet l'anteprima del nuovo album Sunderland firmato a più mani da Luca Colombo Paolo Costa e Lele Melotti musicisti di primo piano nel panorama internazionale che domani saranno al Coriolis di Ripa Limosani per tre seminari formativi in contemporanea le anticipazioni nel servizio di Giuseppe Carriera in gergo sono definiti turnisti perché vengono chiamati in studio per la registrazione di brani o dal vivo sul palco dei tour in realtà sono tre firme d'eccellenza del panorama musicale italiano ed hanno suonato con tutti i più grandi artisti da Baglioni a Zero dalla Pausini a Battiato da Ramazzotti a Celentano Luca Colombo chitarrista e docente al conservatorio Rigoboito di Parma Paolo Costa bassista di Renato Zero e Neck Lele Melotti batterista tra i preferiti ad esempio di Mina tutti e tre saranno domani al Coriolis di Ripa Limosani per un seminario in contemporanea ognuno per il proprio strumento l'iniziativa alla quale è annunciata la partecipazione di allievi provenienti da diverse regioni e di un'associazione molisana di giovani musicisti allora loro sono diciamo tre colossali nomi della musica italiana diciamo che la scelta è stata perché nel Molise vogliamo cercare di promuovere un po' quella che è l'attività musicale si svolgeranno tre seminari diversi in tre sale diverse di basso, batteria e chitappa Colombo, Costa e Melotti sono i tre quarti della band che ha realizzato anche Sunderland un album che uscirà il prossimo 20 gennaio e di cui proprio in queste ore viene proposta una anteprima su internet è stato smarrito un gatto a pelo medio-lungo di dimensioni superiori alla media di colore grigio chiaro con le zampe bianche in via 24 maggio a Campobasso ecco vedete la foto chi avesse notizie può contattare come sempre la nostra redazione è tutto termina qui anche l'ultima edizione del telegiornale grazie per averci seguito e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.